Il Vietri di Larino è una risorsa per la sanità regionale. Non riuscire a utilizzarlo in modo efficiente, uno spreco che il Molise non può permettersi alla luce dell'obiettivo del miglioramento dei servizi sanitari alla popolazione di quel territorio. È il senso della riflessione del sindaco Giuseppe Puchetti. Dal primo cittadino l'auspicio che i vertici della nuova struttura commissariale, di cui ancora si attende l'insediamento, possano riuscire a perseguire un obiettivo che l'intera comunità frentana attende ormai da anni. Il Molise ha due grossi problemi. Il problema di occupazione e il problema di avere una sanità efficiente, efficace. E purtroppo queste sono le due questioni che preoccupano maggiormente. A livello sanitario io ritengo che non è possibile avere una struttura come quella del Vietri e a livello regionale non pensare cosa farci. Noi abbiamo, quando è sorta il problema pandemia, insieme a tanti sindaci, quasi tutti i sindaci del Molise, abbiamo fatto quella proposta di rendere, destinare il Vietri a centro Covid. Questa proposta purtroppo non è stata accettata ai livelli più alti, anche se poi negli ultimi mesi con la seconda ondata tantissima gente se ne è pentita, perché hanno dovuto riconoscere che hanno fatto una scelta sbagliata. Adesso speriamo che nella nuova programmazione, adesso anche con l'arrivo del nuovo commissario e del nuovo subcommissario, si possa intraprendere un percorso veramente di valorizzazione di questa struttura, ma come io penso che però deve essere fatto un ragionamento a 360 gradi. Va valorizzata un po' tutta la nostra sanità, va riorganizzata, perché fino adesso si è pensato solo a fare dei ragionamenti di natura finanziaria, e non si è pensato a fare una sanità che andava a migliorare i servizi alle persone. Quindi bisogna cambiare rotta decisamente.